Storico e mercenario, Senofonte, 431-354 a.C. Storico e mercenario ateniese, scrittore poligrafo, di cui ci sono pervenute le opere complete, circostanza che ha fatto di lui una delle fonti maggiori per la conoscenza dei suoi tempi. In Detti Memorabili dice, senza concordia non può esserci né uno Stato ben governato né una casa ben amministrata. Commento. Forse a Senofonte bastava dire che la concordia è la prima figlia dell'evoluzione.